Siamo di nuovo in studio, sempre con noi il professor Macarri e ci ha raggiunto il dottor Silvio Guerriero, direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, Ospedale Muri di Fermo. Buonasera dottore. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei. Ecco, professore, le persone con malattie infiammatorie croniche intestinali hanno un rischio incrementato di sviluppare tumori al colon retto e la coloscopia ha un ruolo nella prevenzione? Sì, io ho detto che queste non sono malattie tumorali e in effetti non lo sono, però in alcuni sottogruppi di pazienti indubbiamente il rischio, io voglio dire però, è lievemente aumentato, è lievemente aumentato e mi riferisco non a tutte le malattie infiammatorie ma a quelle che colpiscono il colon, quindi la colite ulcerosa e la colite di cron, quando il cron si localizza il colon, ma noi riusciamo ad abbatterlo fino a portarlo praticamente vicino alla popolazione generale con delle procedure di controllo e quindi quella che si chiama la sorveglianza per lo sviluppo del cancro del colon e quindi la diagnosi precoce e questo ovviamente in questa procedure una parte fondamentale non importante è quella dell'endoscopia, un'endoscopia che però deve essere un'endoscopia dove ci deve aiutare anche la tecnologia e quindi oggi parliamo di strumenti ad alta risoluzione, parliamo di strumenti in cui possiamo fare anche delle manovre aggiuntive di elaborazione delle immagini e soprattutto anche l'utilizzo di coloranti. Se io posso vedere... A proposito c'è un video? Sì, se noi possiamo vedere il video, ecco voi vedete questa è un'immagine con i vecchi strumenti, la definizione standard e guardate se andiamo avanti, questa è quello che vediamo oggi con gli strumenti ad alta risoluzione che abbiamo a disposizione, ma se poi noi mettiamo, ecco questo è un qualcosa che sembrerebbe così una zona più arrossata, in realtà spruzzando dei coloranti all'interno voi vedete come riusciamo a definire perfettamente la lesione che può essere, questa era una lesione adenomatosa con una displasia di basso grado e questa è una lesione che è stata rimossa nella stessa seduta per via endoscopica, quindi il ruolo aggiuntivo dell'endoscopia anche per quello che riguarda la parte terapeutica. Devo dire che a questo proposito è importante, come dicevamo prima per l'IBD unit, anche un'organizzazione. Noi abbiamo iniziato a fermo da un paio d'anni delle sedute che sono dedicate alla sorveglianza ai pazienti che hanno una malattia infiammatoria dove dobbiamo fare una sorveglianza per l'eventuale sviluppo di cancro del colo e queste sono sedute dedicate in cui abbiamo più tempo e soprattutto utilizziamo questi coloranti. Di questo se ne occupa principalmente la dottoressa Sara Traini che ci sia dedicata in particolar modo e questo ci permette appunto di arrivare a una percentuale che è sovrapponibile a quella della popolazione generale. Quindi attenzione soprattutto fare questo, soprattutto quando la malattia dura da 6-8 anni, quando c'è una familiarità, quando ci sono anche delle lesioni all'istologia di splastiche in pazienti che hanno un interessamento totale del colo. Professore, ci sono delle novità nelle procedure, nella tecnologia? Cosa ha cambiato rispetto alle tecniche fino ad ora impiegate? Oltre a questo, a quello che riguarda proprio la strumentazione ad alta definizione, abbiamo per esempio una cosa che noi abbiamo da un anno, un anno e mezzo, è la capsula, la videocapsula, cioè la possibilità di ingoiare una capsulina che trasmette delle immagini e ci sono delle capsule che sono fatte appositamente per lo studio delle malattie infiammatorie. Ovviamente bisogna stare attenti perché la capsula studia bene il tenue, non ci devono essere delle zone strette, stenotiche, ma comunque questa nelle malattie infiammatorie in fase iniziale ci aiuta e ci aiuta molto perché ci permette di vedere finalmente anche il tenue in quella parte che poi era impossibile da raggiungere per via con l'endoscopia tradizionale. E queste sono delle capsuline proprio fatte appositamente per le malattie infiammatorie. Professore, qual è il ruolo terapeutico dell'endoscopia? Un ruolo terapeutico ed è anche importante per quello che riguarda, ecco come vi ho detto prima, l'asportazione di polipi all'interno delle malattie infiammatorie. Poi abbiamo in situazioni particolari dove l'approccio col chirurgo è assolutamente fondamentale, per esempio una dilatazione di zone stenotiche, la possibilità di mettere delle protesi che distendono l'intestino e permettono magari di procrastinare l'intervento chirurgico in una ragazza, siamo riusciti a mandarla avanti cinque anni prima di farla operare e poi possiamo anche avere delle tecniche più recenti di dissezione insomma per quello che riguarda proprio delle lesioni più grandi. Quindi sicuramente un ruolo terapeutico importante sempre da valutare attentamente nel rapporto costo-beneficio se l'endoscopia può essere utile oppure passare la parte chirurgica e quindi qui ridoniamo sempre l'approccio multidisciplinare e di discussione collegiale. Ecco, e ora passiamo al chirurgo, il dottor Guediero. Qual è il ruolo della chirurgia nel percorso della terapia delle malattie infiammatorie e croniche intestinali? Di fatto il paziente arriva al chirurgo ovviamente come si diceva dopo una discussione multidisciplinare del caso clinico. Diciamo che le indicazioni all'intervento sono differenti sia che si tratta di morbo di cron che diretto colito al celoso. Per quanto riguarda il morbo di cron diciamo che il 50% dei pazienti affetti da cron nell'arco della loro vita incontreranno il chirurgo e di questi il 70% nei dieci anni successivi potrebbero reincontrarlo perché la chirurgia del morbo di cron potrebbe essere una chirurgia reiterata. Infatti è una chirurgia, una tailored therapy, cioè fatta su misura. Di fatto l'indicazione all'intervento è soprattutto legata a quelle che sono alcuni dei sintomi del cron che sono le occlusioni intestinali, subocclusioni legate alle stenosi in rapporto alle localizzazioni di malattia. Possono essere anche in rapporto alle alcune complicanze della malattia come la formazione di fistole tra diversi tratti dell'intestino oppure soprattutto quelli che sono refrattari alla terapia medica. Diverso invece è l'indicazione per la rettocolito al celoso che è soprattutto una patologia d'organo per cui dopo discussioni multidisciplinari in caso di refrattarietà alla terapia oppure in caso anche in urgenza per dire complicanze secche, il megacolon tossico che è una complicanza molto grave, ormai rara, però complicanza rara oppure complicanze emorragiche, in effetti richiedono l'asportazione completa dell'organo. Il vantaggio in questo caso è che pur di fronte a un grosso sacrificio d'organo perché viene asportato completamente il colon, il retto e fino all'ano, di fatto c'è una guarigione dalla malattia. Alla fine il paziente non avrà più malattia e quindi c'è una correzione completa. Ecco dottore, quanto è importante una stretta collaborazione tra gastroenterologo e il chirurgo per la corretta gestione della patologia? Diciamo che è fondamentale nel timing, nel senso che la stretta collaborazione con le altre figure professionali, anche con il radiologo che si occupa delle interioresonanze o anche la valutazione dell'anestesista che ovviamente è un componente importante nella decisione finale, ci dice il momento più adeguato, più opportuno per poter approcciare chirurgicamente una malattia. Per cui è la stretta collaborazione che rende un favore al paziente. Dottore, che differenza c'è nell'approccio chirurgico tra morbo di Crohn e colite ulcerosa? Nel morbo di Crohn può essere una chirurgia, come dicevo, reiterata, ripetuta perché di fatto possono susseguirsi diverse problematiche. Ad esempio, come si vede nella diapositiva, in questo caso c'è un'astenosi, l'ultimo tratto dell'ilio, a seguito di una ilite terminale, in questo caso l'intervento sarà una resezione di questo tratto, però con un approccio laparoscopico che ovviamente consentirà una rapida ripresa. Però, diciamo, altre problematiche possono essere legate all'astenosi presenti lungo tutto l'intestino. Ovviamente non può essere resecato, una chirurgia di risparmio questa, quindi non si possono fare resezioni di lunghi tratti di intestino per evitare la cosetta sindrome di intestino corto con un malassorbimento. Ma si fanno questi interventi che sono le strutturoplastiche. In pratica vengono riconfezionate le ansie per poter aumentare il calibro dell'ansia intestinale. Sono interventi che possono essere ripetuti nel tempo perché ovviamente la malattia non è mai sopita, insomma ha delle pusee con dei ritorni. Certo. Bene, professore, allora qual è il momento più adatto per intervenire chirurgicamente? Ma il momento va deciso volta per volta. Ecco, in genere l'intervento chirurgico scatta quando non riusciamo più a gestirlo da un punto di vista medico. E poi insieme al chirurgo dobbiamo decidere, il chirurgo preferibilmente, ma non il chirurgo. Per il bene del paziente l'intervento non andrebbe fatto in urgenza perché sappiamo e i chirurghi ci insegnano che in urgenza diventa tutto più difficile, tutto più complesso, con maggiori complicanze. Quindi ecco, idealmente i pazienti vanno ricoverati anche in situazioni di peracuzie, cercare di, ecco, come si dice, di raffreddarli, perlomeno di portarli in una situazione in cui non è necessario fare l'intervento in urgenza e portarlo poi sul tavolo operatorio valutando volta per volta qual è la situazione e qual è l'indicazione, se c'è un'indicazione d'emergenza. Io vi dico che però, ecco, insomma, nella mia esperienza interventi fatti proprio in emergenza non li vedo. Se riusciamo in tutte le maniere a portarli in una situazione anche da un punto di vista nutrizionale, a portarli in una situazione non dico ideale ma perlomeno migliore e quindi mandarli d'accordo con il chirurgo che però deve essere presente, lo dobbiamo monitorizzare attentamente, come si dice, per non perdere l'attimo perché poi potrebbe diventare un problema grosso. Però ecco, insomma, l'atteggiamento e il comportamento è quello di cercare di arrivare sul tavolo operatorio in elezione. Diciamo che è un'urgenza di ferita, ecco come la chiamiamo noi. E se parliamo con il paziente non riusciamo più a gestirlo da un punto di vista medico, però cerchiamo di aspettare quel tempo necessario per poterlo portare in sala operatoria nelle condizioni migliori. Bene. Ecco, dottor Guerriero, nella retocolite ulcerosa in quali casi è necessario ricorrere alla colectomia totale, ossia all'asportazione dell'intero colon? Allora, se ne parlava prima, la refrettarietà, la terapia che viene ovviamente valutata con i colleghi gastroenterologi e in alcune situazioni di emergenza, urgenza e emergenza, che sono il megacolon tossico, la presenza di emorragie, la comparsa di emorragie non controllabili e questi sono gli elementi più, gli eventi più frequenti e più importanti. Ecco, ci sono innovazioni nel trattamento chirurgico delle malattie infiammatorie croniche intestinali? Assolutamente sì. Diciamo l'avvento della laparoscopia ha consentito, diciamo utilizzata in buona parte anche per la patologia oncologica, ha consentito di migliorare notevolmente l'outcome di questi pazienti. Nel senso, con un approccio mininvasivo, con piccoli accessi sulla cute, è possibile eseguire lo stesso intervento che si farebbe in chirurgia open, ovviamente con innegabili vantaggi in termini di benessere del paziente all'immediato postoperatorio e quindi questo si concretizza con una rapida dimissione e un ritorno a casa. E poi a questo si associa anche la possibilità di applicare un protocollo che sta diventando sempre più diffuso che è l'ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, in effetti con un'adeguata preparazione del paziente che noi concordiamo con i colleghi gastroenterologi e quindi il paziente arriva preparato dal punto di vista anche immunologico, immunonutrizione e tutto il resto, è possibile rapidizzare i tempi di dimissione. Il paziente nell'immediato postoperatorio può deambulare nella stanza e bere dei liquidi, il giorno dopo viene stimolato a deambulare liberamente e a fare una, diciamo iniziare una dieta leggera e già in terza, quarta giornata il paziente diciamo in alcuni casi si sente in condizione di poter essere dimesso. Quindi sono questi due elementi, la paroscopia e l'ERAS. Ecco, quali sono le aspettative di un paziente dopo l'intervento chirurgico? Quanto tempo poi ad esempio dovrà sentarsi dal lavoro? Il recupero potrà essere veloce? Allora, ovviamente molti pazienti si approcciano alla chirurgia con inevitabile ansia. diciamo che le nuove tecnologie che ormai sono anche divulgate ampiamente, per cui alcuni pazienti arrivano anche già pronti nella richiesta, facilitano questo contatto tra il chirurgo e il paziente. Il chirurgo deve innanzitutto informare adeguatamente il paziente e soddisfare quelle che sono le sue curiosità e correggere quelle che sono le sue preoccupazioni, perché sfatare i miti che ci sono sull'approccio chirurgico e spiegare i grossi vantaggi che sono con l'approccio laparoscopico, che sono una rapida ripresa postoperatoria, perché ovviamente non c'è una guarigione di una ferita chirurgica, ci sono delle piccole accessi di mezzo centimetro attraverso i quali è possibile eseguire l'intero intervento. Quindi il paziente in genere viene dimesso in quarta, quinta giornata, gli consigliamo una settimana di riposo e poi dopo può riprendere normalmente le sue attività. Il ricovero avviene, se non già diciamo preordinato con i colleghi, quindi passa da loro per una preparazione, però in genere avviene il giorno dell'intervento. Bene, ecco, professor Macari, quale cortezze dovrà avere una persona che ha subito l'asportazione totale del colon? Ecco, potrà avere lo stesso tipo di alimentazione, eseguire lo stesso tipo di alimentazione, avere lo stesso stile di vita? Ma sostanzialmente sì, certo, c'è un periodo, il periodo subito postoperatorio, in cui ci sono delle problematiche, non c'è più il colon e quindi è inevitabile che questi sono pazienti che hanno tante scariche perché il colon riassorbe acqua, non c'è più il colon, quindi è una diarrea acquosa e le scariche sono tante e limitano un po' la qualità di vita nelle fasi iniziali. In genere c'è un recupero spontaneo, un recupero che è difficilmente quantificabile come tempo, nel senso che possono esserci sei mesi, può essere un anno, possono raggiungere, è chiaro che difficilmente raggiungeranno un'evacuazione al giorno, però bisogna tenere presente che per il resto è una vita che è un po' condizionata da questo, una vita che sostanzialmente è una vita come la popolazione generale. Io però faccio sempre presente a questi pazienti che sicuramente con l'approccio della colectomia e dell'asportazione totale è sempre l'ultimo approccio quando fallisce la terapia medica e quindi di vederlo in positivo. Certo c'è qualche limitazione, soprattutto nelle fasi iniziali perché poi c'è un compenso spontaneo e solo in casi particolari cerchiamo di aiutarlo con una terapia farmacologica, ma sicuramente questo è un'arma in più che abbiamo, fondamentale perché quando si ricorre all'intervento chirurgico, perché siamo di fronte a una complicanza severa oppure alla mancanza di risposta alla terapia che tanti anni fa significava anche perdere qualche paziente. Quindi io lo vedrei assolutamente in positivo anche se sicuramente è un approccio necessariamente invasivo e quindi con qualche limite, con qualche problema soprattutto più che limite nel posto operatorio. Bene, ora noi ci fermiamo un attimo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi, torniamo tra poco sempre con il professor Macari e il dottor Guerriero. La sanitaria Fogliardi del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di Via Esonzo ad Ancuna vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato Asur Inail. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Locali sanificati 24 ore su 24, con tecnologia certificata. Per informazioni 071 20 33 24. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati, che vantano una consolidata esperienza. Associati Fisiomed si trova in Via Natali 1, a Sforza Costa di Macerata. Fai vincere il benessere. Scegli Valle Bio. Prodotti biologici ad Ancona, zona baraccola. Valle Bio è supermercato con prodotti biologici, ortofrutta fresca, alimenti dietetici, macrobiotici, per celiaci e intolleranti, è erboristeria e tanto altro. Con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria, con farine biologiche integrali e di grani antichi, a chilometro zero. C'è anche l'angolo gastronomia, sempre di produzione interna. Catering, forniture per feste aziendali e private. Su ValleBio.it trovi tanti prodotti in offerta, da spedire in tutta Italia. Valle Bio prodotti biologici, vicino al centro commerciale Mirum, via Valenti 1, zona baraccola Ancona. Fai vincere il benessere. Unifor SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretane isolanti. L'impresa edile Unifor Diosimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Unifor SRL, via Fratte 10, Osimo.